Grazie a tutti. Carissimi ragazzi e ragazze, faremo una piccola interruzione nel nostro ciclo di catechesi sull'amore umano, perché urge, e a mio parere, d'accordo anche con la redazione della radio, con lo staff della radio, di dedicare una conversazione ad un tema di imminente e strettissima attualità, che è la cosiddetta festa di Halloween. Festa di Halloween, che purtroppo pare essere diventata un fenomeno di cultura, di dimensioni spaventose. Da quello che mi dicono, in moltissime scuole viene festeggiata e celebrata, quindi con gravi danni, come vedremo nel corso di queste conversazioni, alla salute, quanto meno spirituale, se non anche mentale, dei nostri ragazzi e ragazze. Gnari di tante cose e convinti, come forse la stragrande maggioranza delle persone, magari in perfetta buona fede, che si tratta soltanto di una carnevalata macabra. Quindi c'è il carnevale che precede la quaresima, che è il carnevale goliardico, dove ci stanno le maschere di Arlecchino, Puccinella o qualche altro ritrovato un po' più moderno, però comunque niente di letale o di nocivo. E adesso, alla fine ottobre, quindi qualche mese prima, dato che basta che si fa qualche festa, va sempre tutto bene, c'è una carnevalata un pochino macabra, dove ci sono un po' di vampiri, un po' di pipistrelli, un po' di diavoletti, un po' di gufi, un po' di scheletri di morte, un po' di corvi, zombie o cose di questo genere. Quindi fa un po' più, come dire, un po' più kitsch, un po' più, anzi un po' più noir, ecco, più che kitsch, però in fondo non è altro che una grande carnevalata. Quindi nessun problema. Ecco, vedremo durante questa trasmissione che non è così, Don Leonardo citerà a questo riguardo alcune fonti autorevoli, perché onde qualcuno non vada a pensare che Don Leonardo è esagerato, come a volte si sente da qualche parte dire, o che esaspera alcune situazioni o alcune questioni. Citerò fonti, come dire, autorevolissime, tra cui, penso che lo conosciate, però mi preparo subito, insomma, con una breve presentazione, Tonino Cantelmi, Tonino Cantelmi che è autore con Cristina Cacace di un testo che si chiama Il libro nero del satanismo, non voglio fare pubblicità, però è questo il testo che chiunque volesse andare a controllare, Abusi, rituali e crimini, edito dalla San Paolo, per la prima pagina mi trovo anche 2007, Cinisello, Barsamo, Milano. Quindi è un testo abbastanza recente, credo che sia già uscito un'altra edizione, aggiornatissimo, e Tonino Cantelmi, penso che tutti lo abbiano sentito almeno nominare, è un'autorità, è psichiatra, è psicoterapeuta, è presidente dell'Associazione Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici, quindi non è certamente l'ultimo arrivato, AIPPC, sigla, è presidente dell'Istituto Italiano di Terapia Cognitivo Interpersonale. Fa parte di quella rara categoria di psicologi che qualcosa di buono, come ho avuto modo di dire nell'ultimo ammiglio che ho fatto, la fanno, perché chiaramente leggono alcuni dati positivi, sapete che il mare assoluto non esiste, che vengono da alcune scuole di pensiero e psicologico, non per niente è presidente dell'Istituto Italiano di Terapia Cognitiva Interpersonale, che è una scuola psicologica compatibile con i dettami dell'antropologia cristiana cattolica, quindi è un personaggio che appartiene al mondo della scienza, quindi se parla non parla per ragioni confessionali. Vi premetto che qualche tempo fa, io ho ancora le coppie conservate, gli andai a finire sui giornali locali per aver scritto, e lo farò anche quest'anno perché figuriamoci sempre in questo momento di queste cose, un volantino nella mia parrocchia dove denunciavo le connivenze, ma più che le connivenze, le collusioni volontarie tra il mondo di Halloween e il mondo del satanismo. Quando uno dice queste cose ovviamente si espone a polveroni mediatici di vario genere, però quando è in gioco la verità a noi non interessa. le possibili conseguenze. Ora per parlare un pochino di questo tema bisogna anzitutto fare un po' di storia. Allora ragazzi, io ricordo il numero della redazione di Radio Buon Consiglio perché non so se qualcuno vuole intervenire, può farlo liberamente, può farlo anche dopo, può mandare poi cose in redazione, può contattarmi personalmente attraverso il sito della mia parrocchia, io sono presente anche su Facebook, fate quello che volete, basta che cercate Don Leonardo Maria Pompei o parrocchia San Michele Arcangelo sul web e troverete tutti quanti i contatti possibili. Quindi come preferite, se preferite non interrompere la trasmissione oppure se volete intervenire non c'è problema. Io adesso inizio e vi farò una presentazione di questo genere. Prima una presentazione un pochino storica, insomma, di che cos'è questa festa e poi quali sono i suoi retroterra mitologici e culturali e poi quali sono le sue connessioni esplicite, dirette e gravi con il mondo dell'occulto, in particolare il mondo legato al satanismo esplicito, quindi non al satanismo soft o al satanismo razionalista, chi lo sa se poi riusciremo un giorno penso di sì, è vero che lo preannuncio a fare sul Radio Buon Consiglio adesso che terminiamo l'amore umano, un ciclo di incontri anche sulle connessioni e sui rapporti, io ho fatto degli studi su questo tra la musica rock e il satanismo, che sono rapporti anche qui a vari livelli, molto complessi e molto diversificati. Comunque, oggi parliamo di Halloween e cominciamo subito a entrare nel merito. Questa pseudofesta, innanzitutto il significato dell'espressione Halloween, questo ormai lo sanno quasi tutti, io vedo comparire articoli di vario genere su varie riviste, su Settimane di Padre Pio, ma non solo su Settimane di Padre Pio, c'è un bellissimo articolo se andate anche sul web da diffondere, anche quello sul sito di Basta Bugie, c'è un articolo molto molto bello, critico nei confronti di Halloween, che fa riferimento a molte delle cose che vi dirò anche io oggi durante questa nostra conversazione, sono da diffondere queste cose il più possibile attraverso il web, perché se riusciamo a fermare almeno nei buoni fedeli cattolici il dilagare di questa brutta festa già sarebbe un grande atto di gloria a Dio, un grande atto di gloria dell'Immacolata e un grande schiaffo dato al diavolo e ai suoi satelliti. Allora, Halloween, vi dicevo, è la forma contratta di un'espressione inglese che è All, Hello's Eve, che letteralmente significa vigilia ad ogni santi, perché il 31 ottobre è la vigilia di tutti i santi. Facciamo subito una premessa, ho anche avuto modo di intervenire su questo nelle mie conversazioni con i miei parrocchiani, in particolare il bollettino parrocchiale della settimana scorsa. Allora, c'è un'operazione che soltanto le persone miopi oppure poco sapienti si possono permettere di ignorare, è un'operazione satanica, satanica in senso ampio, perché il diavolo non dobbiamo immaginarlo soltanto quando c'è la coda e gli artigli, oppure quando sta in atteggiamenti e in attività soprannaturali, come purtroppo accade la notte del 31 ottobre. Il diavolo è veramente diavolo quando agisce nell'occulto per distruggere il bene e per indurci al male. Ora, non è un caso che questa festa sia fatta alla vigilia della festa di tutti i santi. La vigilia della festa di tutti i santi è una delle feste in assoluto più importanti del calendario cattolico, non perché sia la più importanti in assoluto, perché capite che le feste più importanti sono Natale, Pasqua e poi a seguire sono le feste mariane, l'Immacolata Concezione, l'Assunzione, eccetera, sono tutte quante solennità. La festa di tutti i santi però è importantissima perché si celebrano tutti i santi di tutti gli stati di vita, cioè la festa in cui ciascuno di noi può trovare lo specchio e anche, come dire, l'ispirazione, la molla di ciò che deve e può diventare, perché mentre Gesù Cristo e la Madonna erano comunque senza peccato originale, si trovano su un pianeta diverso, più elevato rispetto al nostro, i santi erano persone come noi, erano poveri peccatori, alcuni erano grandissimi peccatori e alcuni anche grandissimi peccatori proprio di brutto, ci sono delle storie veramente bello conoscere nelle vite e ci fanno vedere qual è la bellezza della vita cristiana, cioè vivere da santi è la cosa più bella che possa succedere, non esistono i santi musuoni, non esistono i santi arrabbiati, i santi sono persone, amici senz'altro della croce e della mortificazione di Gesù, come lo siano amici tutti, ma sono persone strafelici, sono persone realizzate, sono persone contenti di vivere, sono persone che si mettono sotto i piedi, il diavolo, il mondo e tutte le porcherie che si fanno qui e servono il Signore in letizia, perché questo è la vita, quindi è una festa che dovrebbe essere proprio un tripuglio, dovrebbe essere uno sprizzare gioia da tutti quanti i pori, perché siamo tutti incoraggiati, perché ce ne sono di tutti i tipi, i santi ci sono dai santi bambini, santi adolescenti, santi adulti, preti, frati, suore, monaci, papi, vescovi, cardinali, pure i cardinali sono santi, sposati, uomini, donne, single, ragazzi, ragazze, vedove, persone anziane, di tutto c'è, non esiste come dire situazione di vita, personaggio, stato di vita, condizione economica che non sia rappresentata da qualche santo, si è dato tanto di andarle a conoscere, ecco perché per esempio nella mia parrocchia, adesso è già il terzo anno, io invito chiunque mi stia ascoltando, ditelo ai parro, ci sto ancora in tempo, noi il 31 sera facciamo la festa in maschera, audite, audite, ma non ci mascheriamo da pipistrelli o da stupidi, ci mascheriamo da santi e io sono il primo a mascherarmi, io non mi maschero mai, il pagliaccio non amo farlo proprio per stile personale che chi mi conosce lo sa, tranne il 31, 31 sera faccio il pagliaccio pure io, l'anno scorso mi sono vestito dal santo curato d'Ars, con la parrucca bianca e le lenti a contatto con gli occhi azzurri e il cerone per farmi picchiare sulla sua faccia, perché è una festa bellissima in cui ciascuno poi durante la serata, c'erano dei giochi e poi deve studiarsi la figura del santo che rappresenta e poi c'è un momento in cui lo racconta a tutti quanti, per vivere la dimensione positiva, perché non basta nemmeno come vedremo prendere le distanze da Alumi, dobbiamo riappropriarci di quello che è nostro, allora scusatemi ma questi argomenti li sento particolarmente a cuore, stavo dicendo che non è un caso che Alumi sia il 31, perché il 31 bisogna captare l'attenzione per distoglierla da questa festa importantissima, in modo tale che non si viva bene, in modo tale che non se ne tragano tutti i formidabili spunti e input diciamo così, per tendere risolutamente alla santità, perché noi dobbiamo diventare santi tutti, tutti quanti, intanto qualcuno dice ma tu lo sai che devi diventare santo, eh padre santo, non esageriamo, 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 perché la santità non è una vocazione per qualcuno, per categorie privilegiate, i santi erano persone normalissime, erano persone come noi, non avevano nulla di… quando hanno cominciato il percorso, certamente non facevano le penitenze che faceva Santa Veronica Giuliani quando stava in monastero, che è meglio anche non saperle, quelle lì che sono troppo grandi, hanno cominciato da una condizione povera, misera, capite? Ma sono poi stati subetti altissimi, perché basta semplicemente, come dice Santa Teresa, guarda che se a qualcuno di voi gli va di diventare santo, deve fare solo una cosa, dice Santa Teresa Davila nei suoi aurei libri, deve decidersi di iniziare il cammino, avete visto il salmo bellissimo che dice, beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio, una volta presa quella decisione deve fare soltanto questo proposito, succeda quello che succeda, si arrabbi chi si vuole arrabbiare, mi contesti chi mi vuole contestare, mi facciano la quarta guerra mondiale, se scadene l'inferno, succeda qualunque cosa, io sono partito e non torno indietro, qualunque cosa succeda, solo questo ci vuole, ma poi ci saranno le tentazioni e non ce la faccio, se uno ha questa risoluzione nel cuore, Dio vuole che diventiamo santi, ci darà tutte le grazie e tutti gli aiuti, noi stiamo dalla parte del vincitore, il diavolo non può niente contro le anime risolute, dice Santa Teresa e non dobbiamo averci paura di lui e ne dobbiamo farci prendere in giro, sapete le risate che si fa il 31 di ottobre, una valanga con tutti i fedeli e le fedeli che come tanti cretini, perdonatemi l'espressione, stanno in fila a fare gli stupidi per una sera e a dire amen indirettamente a tutto ciò che questa pagliacciata macabra, come vedremo, rappresenta, quindi a dargli forza, a dargli potere, a dargli gloria e lui si sbellica dalle risate perché lo fanno pensando di fare una pagliacciata goliardica, anzi una pagliacciata goliardica, una pagliacciata macabra, ma non è così. Allora, la prima cosa, Halloween è una ricorrenza magica, vi leggo subito, allora il mondo dell'occulto così lo definisce, questa è una citazione da un altro testo, non quello che vi citerò tra poco, che è un testo di Walter Sarin, il canto di Satana, è il giorno più magico dell'anno, è il capodanno di tutto il mondo esoterico, è la festa più importante dell'anno per i seguaci di Satana. Io vi dico che durante alcuni esorcismi il diavolo ha detto in questo giorno io mi scateno, la notte del 31 di ottobre, non avete idea e non ve lo dico perché non mi va di dare diffusione e gloria alle opere di quel balordo che si trova al piano di sotto, non avete idea di quello che combinano in questa notte, di tutto fanno. Nel testo di Tonino Cantelmi e di Cristina Cacace si legge a proposito di Halloween, cito, i satanisti celebrano i propri rituali, oltre che nei sabati e nelle notti di luna piena, anche durante altre notti dell'anno che corrispondono alle loro festività. Allora, uno, il 31 ottobre, commemorazione dei defunti di tutte le potenze delle tenebre dette Samain o Halloween. Questo giorno è considerato il capodanno di Satana perché secondo un'antica credenza popolare le anime dei defunti tornano in visita nelle proprie case per cui è possibile stabilire un contatto con loro. I satanisti utilizzano la celebrazione per fare delle richieste al demonio perché credono che verranno esauditi. Questo si trova nel testo che vi ho citato prima, il libro nero del satanismo di Cantelmi e Cacace a pagina 69, sotto il titolo delle festività dove c'è tutto quanto il calendario satanio e guardate la strana coincidenza con tutta una serie di feste. Il 1 gennaio è un'altra cosa importantissima, il 2 febbraio che torna la festa della Candelora e il sabato prima delle ceneri, mentre si stanno facendo tutti quanti i carnevali e le carnevalate varie, il 24 giugno e il 25 giugno, la notte della magia, la vigilia della festa di San Giovanni Battista e poi addirittura il 29 settembre, festa di San Michele, secondo il rito antico, dove viene celebrata la conoscenza demoniaca, questo si trova a pagina 70. Se volete approfondire, comprate il libro. Ora, anticamente però, diciamo che questa data era fondamentale nella cultura celtica, perché già allora era uno dei quattro sabba delle streghe. Cos'è un sabba? Vi cito nuovamente Toccantelmi, Cacace, pagina 69, la nota numero 15. Il termine sabba indica le riunioni notturne delle streghe. Secondo la leggenda, le streghe partivano a cavallo di una scopa, si riunivano in una radura dove facevano un gran baccano abbandonandosi a scene deliranti e sfaventose, a orge e a profanazione di ogni genere. Attenzione, è uno dei quattro sabba delle streghe e il più importante. Capite? Quindi un sabba rievoca queste riunioni orgiastiche e profanatorie, leggendari, certamente delle streghe. D'accordo? Ora, la festa dei santi non ha niente a che vedere con quella di Halloween, niente. Allora, questa festa fu instaurata da Papa Gregorio IV, tanto per fare un po' di storia, nell'840 e dal 1048 la sua celebrazione, che originariamente era in maggio, fu spostata al primo novembre al fine di detronizzare il culto a Samhain. Ora, voi dovete sapere una cosa, santo cielo, ecco, e riprendo il discorso che stavo facendo prima e che ancora non ho finito. Allora, quando il cristianesimo si è imposto, diciamo così, a livello culturale in Europa, che cosa è successo? Ha cercato gradatamente di sostituire le feste cristiane con le antiche feste pagane. Questo è pluriattestato. D'accordo? C'è stato sempre quest'opera, diciamo così, di… lo vedete anche nell'architettura, per esempio, non tutti sanno, per esempio il portone della Basilica di San Giovanni in Laterano è la porta del Senato di Roma. Dice, ma che c'entra? C'entra perché qual è il Senato che era il luogo dove si prendevano le decisioni più importanti per tutto l'impero, il nuovo Senato qual è? È la cattedrale di Roma, sapete che il Papa una volta desiderava San Giovanni in Laterano, quindi erano lì che venivano prese le decisioni fondamentali, nicolanti per tutti i cristiani. Quindi è una cosa anche significativa, cioè sempre a San Giovanni, se andate a vedere l'obelisco che si trova a San Giovanni o anche quello che si trova a San Pietro, sono stati presi dall'Egitto, ci è stata messa la croce sopra, quindi il potere di Cristo che evangelizza tutte le realtà umane un tempo in balia degli idoli. Adesso è stato fatto il contrario. Riprendo il discorso, mi scusate che purtroppo nella foga catechetica sono quattro volte che cerco di iniziare un discorso e non lo finisco. Quello che succede con il 31 di ottobre, quindi il distogliere l'attenzione dalla festa di tutti i santi, succede con tutte le feste, con tutte se voi ci fate attenzione, perché adesso tra poco arriva Natale. Che cos'è Natale? Natale c'è Babbo Natale, quindi con la scusa di Babbo Natale e dei regali, arriva Natale, e Natale, festa meravigliosa, importantissima, è soppiantato da Babbo Natale per i bambini e dalle giocate a carte e dalle abbuffate per i grandi. State attenti a non andare a dire che Don Leonardo dice chissà che cosa, io non sto dicendo che non ci si possa scambiare un dono a Natale, ma farlo in maniera significativa. Io l'anno scorso ci ho fatto le catechesi, perché si fanno i doni? Si fanno i doni per piccoli poi, e sarebbe sempre bene farli in primis ai poveri, che ne hanno davvero bisogno, quello sarebbe un dono santo, per ringraziare il Signore del dono con la D maiuscola che ci ha fatto, cioè che ha fatto questo figlio, si è fatto carne, ma il dono è meglio metterlo sotto il presepe, sotto l'immagine di Gesù Bambino, dono che il Padre ha fatto a noi, piuttosto che sotto il cosiddetto albero di Natale. Comunque, all'Epifania che succede? Che arriva la Befana, di notte con le scarpe tutte rotte, i bambini si mangiano, si abbuffano di cioccolatini e di cenere del carbone, e la festa dell'Epifania si è proprio volata a chiedere anche ai grandi che cosa è la festa dell'Epifania, la disperazione di un parro, che ogni anno deve ripetere sempre le stesse cose, perché la gente non sa neanche che significa Epifania, e non so se lo sapete voi che mi state ascoltare, ma voi sicuramente siete bravi e santi. A Pasqua, a Pasqua stessa cosa, a Pasqua che succede? Natale con chi vuoi e Pasqua con i tuoi, quindi a Pasqua si parte, si va in vacanza, si va nelle località marine o montagnose, se fa freddo si fa l'ultima sciata, se fa caldo si fa il piede in un bagno e così magari salta la pelle, la festa, la messa di Pasqua, tanto non c'è problema, dobbiamo riposarci, e tanto la cosa importante è che si facciava una bella uscita, una bella scampagnata a Pasquetta, queste sono le vacanze di Pasqua, no? Giusto? La Quaresima, il Carnevale è stato inventato diciamo così, come, ai tempi in cui la Chiesa aveva un certo peso specifico, quindi la Quaresima si doveva fa e non era, anche qui una cosa a cuor leggero come oggi, un digiunetto al mercoledì delle ceneri, un digiunetto al venerdì santo, qualche astinenza dalla carne venerdì è finita, e già la quasi totalità dei cristiani di queste cose fa zero, per quanto ne so io, quindi neanche questo. Una volta la Quaresima era Quaresima, mi dice, allora che facciamo? Allora poi ti faccio vedere io, tu mi imponi adesso di fare digiuno delle cose, allora prima mi scateno, succede di tutto e di più, quindi, certo, la Quaresima è un periodo santo che mi obbliga a vivere, però te lo rovino, perché se uno prima della Quaresima fa 100 miliardi di peccati, mi spieghi poi che la farà fare quel digiuno della Quaresima, sarebbe meglio che non facesse niente né prima né dopo, piuttosto che andare a fare tutti quanti i pebbacordi, no? Andiamo avanti, è a ferragosto, il 15 d'agosto, chissà che è la festa dell'assunzione, i ragazzini del catechismo, quando è la festa dell'assunzione? Lo sa quasi nessuno, perché l'estate si va al mare e il 15 d'agosto è a ferragosto, quindi è il giorno in cui tutti stanno in ferie, addirittura anche i negozi, sono addirittura chiusi pure i negozi a ferragosto, quindi capite che grande festa che è, no? Il religioso non c'è assolutamente nulla. Tutte queste operazioni sono operazioni a mio parere sataniche, nel senso che sono astuzie disseminate dal diavolo per distoglierci, cioè da andare a vivere il cuore, perché di queste feste si nutre la nostra fede. Pensate alla differenza quando una festa viene, come era fatto sempre, viene preparata da una novena prima o da un triduo e da una novena e da un'ottava di ringraziamento, scusate, una novena dopo, così veniva fatto una volta. Quando c'era una festa importante, ora sono rimaste quella dell'immacolata, dove le fanno, quella di Natale, c'era la novena prima e c'era l'ottava dopo, quindi 9 giorni di preparazione alla festa, la celebrazione della festa e 8 giorni di ringraziamento dove si continuava a meditare, a significare della festa. Quindi ogni volta che tu avevi una festa importante, fatevi un po' di conti, avevi 9 più 8, 17 giorni per pensarci e per meditarci, altro che le distrazioni continue. Riprendiamo il capitolo di Halloween. Quindi una volta le feste pagane venivano sostituite negli stessi giorni da feste cristiane, d'accordo? Lo spostamento della festa dei Santi del 1 novembre fu fatto proprio dallo scopo di detronizzare il culto a Samhain, adesso lo vedremo subito. E oggi si esiste esattamente al fenomeno contrario, cioè in concomitanza con le feste cristiane non solo di ogni Santi e poi quella dei Pederi dei Punti il 2 novembre, altro giorno importantissimo, si cerca di diffondere nella cultura e nei costumi una festa pagana completamente stranea e ostile al clima e al contesto della fede, non solo di queste due feste ma anche degli altri eventi significativi della nostra fede. Allora, cosa successe con Halloween? Risalgono le origini di questa festa agli antichi druidi celti, quindi stiamo nel nord dell'Europa, quindi circa duemila anni fa. Questi celebravano la vigilia del nuovo anno il 31 ottobre in onore di questo fantomatico Samhain. Samhain era nella loro mitologia pseudo-religiosa il principe della morte. Ora, siccome ovviamente il sostentamento principale di queste popolazioni era l'agricoltura, in questa notte, che era una notte di fine estate, sicuramente il 31 ottobre anche dalle nostre parti l'estate ormai è definitivamente, si spera, finita, questi festeggiavano questa divinità oscura e questa divinità oscura veniva ringraziata per i raccolti estivi. Quindi Samhain era il signore degli inferi, il principe della morte, che con l'arrivo dell'inverno cancellava la potenza del dio sole, suo eterno rivale, e così si identificava con il dio dei morti giorni, oppure semplicemente con la luna. La luna sapete che è una di quelle simbologie legate all'iconografia di Halloween. Ora, quindi questo giorno di Samhain segnava dunque l'inizio invernale e fu chiamato per questo motivo il giorno in mezzo agli anni, quindi lo sparti traffico dell'anno. E questo essere lo sparti traffico dell'anno, quindi, veniva considerato un momento magico, cioè un momento in cui, attenzione, le barrile tra il mondo dei vivi e quello dei morti si praticamente annientavano ed i morti tornavano sulla terra a comunicare con i vivi. Allora, che cosa succede? Se accade questo, gli spiriti malvagi dei morti venivano per fare del male e Samhain avrebbe dovuto, in quanto signore della morte e dei morti, impedirglielo. Quindi la festa di Halloween doveva placare Samhain e gli spiriti dei defunti. Allora, d'accordo? Ora, all'inizio in questa giornata si onoravano quindi tutti i morti, ma con il passare del tempo questi spiriti assunsero un connotato diabolico e malvagio. Fu così che piano piano durante le celebrazioni per Halloween apparevano la presentazione di fantasmi, scheretti, simboli della morte del diavolo e di altre creature marigni come le streghe. Nella cerimonia celtica era però presente un particolare molto importante. I partecipanti dovevano vestirsi con pelli e teste di animali al fine di acquistare la forza dell'animale rappresentato e spaventare così gli spiriti malvagi che erano presenti. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Ora, dentro questo humus mitologico celtico si inserisce una leggenda irlandese da cui derivano tante ulteriori simbologie legate attualmente ad alui tipo la zucca, trick or treat e tante altre cose. Ora, c'è una leggenda irlandese racconta che Jack, un fabbro malvagio, perverso e ticchio, una notte del 31 di ottobre dopo l'ennesima bevuta viene colto da un attacco mortale di cirrosi epatica. Il diavolo si trova a reclamare la sua anima ma viene ragginato da Jack e si trova costretto ad esaudire alcuni suoi desideri tra i quali quello di lasciarlo in vita, giungendo ad un patto con cui rinunciava all'anima del vetrobo. Ora Jack, ignaro dell'effetto della malattia, muore un anno dopo. Ora però è morto ma il diavolo aveva rinunciato alla sua anima, quindi in paradiso non ci poteva andare, questo era cattivo. All'inferno non ci poteva entrare perché il diavolo aveva rifiutato la sua anima e quindi questo poveraccio non sa che fare e che cosa fa? Prende una grossa rapa, vi mette all'interno della brace fiammante e con questa lanterna Jack, ormai divenuto fantasma, non lo vogliono in paradiso, non lo vogliono all'inferno e comincia a vagare nel mondo dei vivi. Vedete le origini della zucca con dentro la candelotta. Ora che succede? Gli irlandesi, colpiti dalla carestia, immigrarono in America verso il 1850. Approdati nel nuovo mondo, trovarono un'enormità di zucche che a differenza delle piccole rape indigene erano sufficientemente grandi da essere intagliate. Così le zucche sostituirono le rape e dipendero le Jack o Lantern utilizzate le note di ogni santi perché attraverso questa lampada accesa si pensava di tenere lontano gli spiriti inquieti dei morti che tentavano come Jack di tornare a casa. Vedete che ritorna questo aspetto dei morti che ritornano. Questo era tipico sia nella tradizione celtica che in questa leggenda erlandese. Perché quindi oggi i bambini si travestono e fanno visita alle famiglie guidate dalle lanterne zucche e ottengono dolci in cambio della loro benevolenza. Perché fanno, vi lo sapete, no? Trick or treat, cioè dolcetto scherzetto sarebbe. Adesso poi vedremo che non è così, no? Perché rappresentano questa sorta di messa in scena, no? Quindi travestiti rappresenterebbero questi morti che vagano e quindi che bussano e quindi se qualcuno gli offre questo dolcetto in sacrificio si astengono da fargli lo scherzo, altrimenti gli faranno uno scherzo. Quindi riprendono questo particolare. Ora però, alcuni secoli prima di Gesù Cristo, noi dobbiamo sapere che una setta segreta teneva sotto il suo imperio il mondo celtico e ogni anno, il 31 ottobre, giorno di Halloween, celebrava in onore delle sue divinità pagano un festival della morte. Gli anziani della setta andavano di casa in casa reclamando offerte per il loro Dio. E capitava addirittura che esigessero sacrifici umani. Io vi dico, e ho delle fonti da cui so questo, che nella notte del 31 ottobre durante alcune messe nere vengono fatti dei sacrifici umani, specialmente di bambini. In caso di rifiuto proferivano delle maledizioni di morte sulla casa. Quindi girovago per la casa, chiedono offerte per un Dio o sacrifici umani, se qualcuno si rifiuto lanciavano una maledizione. Quindi capite che trick or treat, dolcetto o scherzetto, in realtà originariamente significa maledizio, sacrificio che tu mi offri, oppure maledizione che io ti lascio. Ora, questa festa si è fermata, si è diffusa negli Stati Uniti a causa appunto della, come dire, della, della emigrazione e degli irlandesi che hanno importato negli Stati Uniti la leggenda di Jack e poi purtroppo è stata esportata prima in Europa e poi in Italia, aiutata anche da alcuni film horror di noto successo degli anni, io ero giovane che erano gli anni 80, Hallow, nella notte delle strego, quei bruttissimi film molto splatter che uscirono alla fine degli anni 80. Ora, dobbiamo sapere un'altra cosa, perché ci sono alcune, alcune, alcune simbologie tipiche di Hallow, che l'avrete vista in giro, oltre alla zucca, le mele per esempio, il pipistrello, il gufo, il ragno, il gatto nero. Ora, per venerare Samhain, questa terribile divinità della notte, voi capite che questo Samhain, che è una creatura mitologica, rappresenta il diavolo. Si praticavano in particolare due riti divinatori fatti con le mele. Il primo era l'immersione delle mele, il secondo era la spellatura della mela. Il primo era un rito di divinazione per un matrimonio, cioè la prima persona che mordeva una mela immersa si sarebbe sposata l'anno seguente. Invece sbucciare la mela era una divinazione sulla durata della vita, quindi più lungo era il pezzo di mela sbucciato senza romperlo, più lunga sarebbe stata la vita di chi la sbucciava. I quattro animali tipici di Halloween, ripeto pipistrello, gufo, ragno e gatto nero, sono stati associati a partire dal Medioevo alle streghe, di cui si credeva che fossero servitori demoniaci, chiamati in gergo famiglie. Quando le streghe cominciarono, famiglie scusate, quando le streghe cominciarono ad essere collegate ad Halloween, appunto perché Halloween è il primo dei quattro sabba anche nel calendario satanico e i sabba erano le quattro riunioni annuali delle streghe, anche i famigli ne divennero delle icone. Il pipistrello è un animale molto connesso alla stregoneria e alla morte in diverse culture. Ora, sapete, è un animale che vola di notte, dimora in caverne e rovine. Dovete sapere che il sangue di pipistrello è usato nella magia nera, nella magia nera, cioè nel mondo dell'occulto per preparare pozioni magiche, che non sono le pozioni di Harry Potter, tornando ad esempio di prima, sono pozioni cattive, cioè dovete sapere leggere i libri di padre Amort in merito, ne ha scritti diversi, che i malefici e le fatture esistono. Tu ti bevi una pozione intrisa con qualche schifezza che ha fatto qualche, non qualche charlatano alla vanna a Marti, ma qualche operatore dell'occulto che sa fare queste cose e tu ti ritrovi con lo stomaco fatturato, con dei dolori inspiegabili, con delle malattie inspiegabili o addirittura in altri casi con delle vere e proprie forme di possessione diabolica. Il ragno, la superstizione vuole che il ragno sia portatore di cattive vibrazioni e inoltre è capace di fare del male a uomini e animali anche solo con la vicinanza. Durante il medioevo, per quanto riguarda il gufo, si credeva che nella notte di Halloween demoni in forma di gufi viaggiassero assieme alle streghe e ai loro gatti a bordo di manici di scopa per andare al samba delle streghe, sono tutti quanti animali notturni. Infine il gatto nero, quanti di noi fanno tuttora di scongiuri quando un gatto nero ci taglia la strada. Ecco, attenzione, questa superstizione che ovviamente non è da praticare come tutte le superscrizioni, è un retaggio ancora della cultura medievale che legava la figura del gatto nero, anzi non è che legava, diciamo che nel gatto nero vedeva un vero e proprio simbolo del diavolo, si credeva che le streghe potessero trasferire il loro spirito in un gatto e per questo avevano sempre con sé un gatto. Guardate che le streghe, adesso lasciate perdere tutte quante le purvere, i purveri distingo storico, le caccia delle streghe eccetera eccetera, però tuttora oggi, a mia conoscenza, persone che si possono chiamare streghe in quanto che sono donne dediche alla magia nera, esistono. Capite? Non vediamo queste cose, io non so se hanno le scopi, sinceramente non è che ci credo tanto personalmente, però ciò che rappresentano e ciò che significano esiste ancora. Capite? Quindi capite? Celebrare la festa di Halloween vuol dire di fatto entrare dentro questa ritualità, perché i bambini che vanno a fare trick or treat, capite? Rievocano i riti propiziatori fatti in onore di Samhain dalle sette estremistiche che andavano a chiedere o mi fai un sacrificio alla divinità malvagia oppure io ti lancio una manedizione. Le feste in maschera, con queste maschere, rievocano tutta quanto una serie di maschere direttamente legate al mondo dell'occulto e lo sono tuttora, perché se voi andate, non ci vorremmo andare insomma, però se voi fate un pochettino di cultura sul mondo dell'occulto, io spero, vi ripeto in futuro, in qualche trasmissione di Radio Buon Consiglio di dare qualche indicazione in merito, vedrete che questi animali sono tuttora presenti. Vi faccio un esempio, nei concerti di alcuni gruppi estremi veramente dark, vi faccio un nome, tipo i detti SS, si fanno alcune cose di questo genere, ci sono alcuni animalaci, c'è qualche pipistrello che svolanza in giro, quindi questa simbologia è rimasta tuttora vive operante all'interno del mondo dell'occulto nero, quindi legato proprio al mondo del satanismo esplicito. Andare a fare una festa con queste maschere, quindi rievoca due cose, uno, le maschere legate alla simbologia del culto al dio dei morti, uno, due, le sfrenatezze e le orge fatte dalle streghe durante i sabba, di cui questo era il principale e il più grande. Questo è, d'accordo? Tu dici, ma se uno lo vive come una carnevalata, che problema c'è? Non è vero, perché c'è stato un intervento anni addietro di padre Amort, padre Amort non è l'ultimo arrivato, padre Amort io l'ho conosciuto qualche anno fa, quando io lo conobbi, non qualche anno fa, parecchi anni fa ero prete da poco, quindi saranno passati sei anni, forse sette anni fa, lui disse che aveva già compiuto 60.000 esorcismi in vita sua, io ci sono stato ad accompagnare qualcuno lì, non avete idea di quello che succede dentro la stanza dove quel povero uomo, preghiamo per lui, credo tuttora, continui a combattere quotidianamente contro il dio. E ho detto chiaramente che chi entra dentro la logica di questa festa si va a mettere nei guai, perché compie un atto di assenso, per quanto in buona fede, in diretto, a ciò che tutto questo rappresenta e significa. Io vi leggo alcune cose, sono uscite, l'anno scorso è uscito un bell'articolo sul settimanale di padre Pio che vi cito, c'era Luca Farnese che è un grande apologeta che dice qualche considerazione conclusiva, dopo di che qualche piccola indicazione che io vorrei dare, insomma, anche su come interagire con questo fenomeno. Alcune parole del Cardinal Bertone, parole, come dire, moderate, soft, ma comunque significative. Io vorrei che i genitori, i parenti e le famiglie usassero lo stesso dispendio di energie, di tempo e di soldi, dedicati ad un evento insensato, quanto meno insensato, come quello di Halloween, per reducare valori veri, come quelli per esempio della comunione dei santi, primo novembre, e dei defunti, due novembre. Io non so se la settimana prossima andremo in onda in trasmissione, poi me lo dirà la redazione della radio. Per esempio, l'amore umano mi perdonerà, io riterrei molto opportuno anche per voi ragazzi, fare un discorso serio sul mese di novembre e sul mistero della morte, perché non è che siccome siamo ragazzi dobbiamo concepire questa cosa come una realtà completamente lontana, anche perché anche per noi cristiani, anche questa brutta esperienza, terribile esperienza, come quella della morte, ha una parola di evangelizzazione e ha comunque una forma santa di essere vissute. Io ho perso i miei genitori nel giro di 22 anni recentemente, scarsi, mi mancano profondamente, tantissimo, però ho vissuto entrambi questi eventi con una profondissima serenità nel cuore, continuo a vivere con una profondissima serenità nel cuore, nella piena accettazione della volontà di Dio, nella fiducia che a Dio piacendo un giorno le rivedrò e soprattutto nella serie di pratiche continue che sto facendo nel loro favore per aiutarli qualora avessero qualche debito nei confronti della giustizia di Dio, perché io come figlio, dal momento che anche per me c'è il quarto comandamento, onora tuo padre e mia madre, devo aiutarli a pagare. Ora, attenzione che una ex strega, sono parole di Luca Farnese, una ex strega vuol dire che era una persona che faceva la strega, non dobbiamo noi pensare che queste figure siano semplicemente creature immaginarie inventate nel mondo delle fiabbe, perché esistono, ha confessato che Halloween non è nient'altro che una subdola iniziazione all'occulto, infatti quella notte, attenzione queste sono parole di una ex strega, non di Don Leonardo, le streghe compiono rituali e gettano maledizione sui dolciumi prima della loro distribuzione per attirare i giovani alla stregoneria e sollecitare l'interesse dell'oppunto. Quindi questa pseudo festa è solo uno dei tanti modi con cui si tenta di introdurre una mentalità esoterica nella nostra vita e nelle nostre tradizioni. Alcune finastrocche imparate dai bambini, attenzione adesso dopo due cose, anche a scuola credo, costituiscono delle vere e proprie evocazioni di spiriti maligni. Molti oggetti poi venduti per la festa di Halloween sono amuleti, talismani, manufatti usati nelle pratiche di stregoneria per sicurare patti col diavolo, affinché saurischi i desideri degli uomini. La buonanima di Don Oreste Benzi, santo sacerdote, affermava che lo scopo principale di Halloween è la diffusione di una mentalità magico-demoniaca, magico-demoniaca, con cui si vuole sostituire la nostra cultura cristiana. E sulla stessa linea, un signor Grillo, vescovo emerito di Civitavecchia, afferma scuola. Si tratta di una consuetudine nettamente pagana. Naturalmente un vero cristiano non potrà mai dare la sua assenza a tutto questo, soprattutto per il fatto che di carne valate quantomeno oscene, tipo Gay Pride and Company, ve ne sono a Iosa, cui vanno aggiunte le veglie sataniche mascherate proposte da alcuni gruppi, purtroppo abbastanza diffusi anche nei nostri ambienti. Perfino la simbologia della festa di Halloween, come abbiamo visto, ha radici esoteriche. Anche le decorazioni dei costumi utilizzate in una serata della festa devono essere sfrontate per essere d'effetto. Attenzione, arancione, nero e rosso, colore della zucca, sono arancione, nero e rosso, colore… allora sapete come stanno i sacerdoti e i partecipanti alle messe nera? Il sacerdote ha una bella tunica nera e tutti quanti i partecipanti hanno una bella tunica rossa e tutti quanti incappucciati. Io l'ho vista una messa nera registrata, in parte, so com'è. Quindi arancione, nero e rosso, i colori del diavolo, sono quelli associati ad Halloween. Discoteche e pub organizzano feste ispirandosi al mondo dell'orrore dei vampiri. Vari locali si presentano per il grande evento, allestite con tavoli a forma di bare, soffitti da cui prendono lunghe ragnatele, scheletri ovunque posizionati, bicchieri a forma di teschi e i partecipanti completano l'atmosfera travestendosi rigorosamente da mostri o streghe, spesso con zucche sulla testa. State attenti a questo discorso dei mostri, se io vi dovessi chiedere, ma secondo voi i demoni come sono fatti? Punto interrogativo. C'hanno una forma? Silenzio di riflessione. Allora, basta che uno apre il libro d'oro delle rivelazioni fatte dalla Madonna Fatima. I demoni quando viderono inferni pastorelli, per un secondo, momenti muoiono di infarto, tutti quanti, videro degli esseri deformi, cioè videro entrare nelle fiamme degli esseri dalla forma umana, le anime dei dannati e uscirle poi come dei mostri deformati. Ma i demoni si distinguevano da loro perché erano incredibilmente più mostruosi. Quindi quando uno si veste da mostro, un mostro è un diavolo. I diavoli nella loro identità, i diavoli possono travestirsi da tutti, perfino da Gesù Cristo e dalla Madonna, per quanto sono raffinati. Però quando non stanno travestiti, sono dei mostri. I demoni sono mostri, orribili. Se si facessero vedere così come sono, scapperemmo tutti quanti e moriremmo di paura. Sono mostri, sono mostruosi. Quindi se ti vesti da mostro, te vesti da diavolo. D'accordo? Avete visto il Signore degli Anelli, gli orchi? È uscito adesso da poco un bellissimo testo, ve lo consiglio, che spiega come tutta la saga del Signore degli Anelli sia in realtà una rappresentazione mitologica della rivelazione cristiana. Chi ha visto il Signore degli Anelli avrà visto gli orchi che anche erano brutti, ultimostruosi o vitilanti. Chi erano gli orchi nella saga di Tolkien? Erano elfi una volta. E gli elfi chi sono? E gli elfi sono gli esseri immortali. Quindi gli elfi rappresentano gli angeli e gli orchi rappresentano i demoni. Sono elfi dei gatuti. Sono angeli dei gatuti come i demoni sono e sono diventati mostruosi. Ma vi ricordate da tanta di ieri quando c'è la visione di Lucifero in fondo dell'interno? Dice, mamma mia! Se eri bello, tanto quanto sei brutto adesso, sicuramente eri bellissimo e meraviglioso, perché ero un essere completamente mostruoso. Quindi che è questa? Cioè, gli piace uno andarsi vestito da diavolo, da mossi o streghe, con zucche sulla testa. Bravo! Noi ci vestiamo da santi, non da mostri. I mostri li lasciamo a chi è già mostruoso dentro con tutti quanti i peccati che ha fatto, noi no. E la festa di Halloween si lega a un altro preoccupante fenomeno. Questo lo registra sempre Luca Farnese, non Don Leonardo. Sto citando il suo articolo. Cioè, a quanto scrive questo autore, io non lo so perché non ci vado, la presenza di cartomanti e chiromanti nelle discoteche. Così, oltre a ballare vestiti da mostri, i ragazzi hanno la possibilità di entrare in contatto con gli operatori dell'occulto e di farsi leggere i talocchi in un angolo del locale. Halloween è diventato un colossale business economico, perché dietro il diavolo c'è sempre un grande giro di soldi. Allora, questi sono dati vecchi di uno o due anni e Telefono Blu stima in 120 milioni di Euro la spesa per organizzare eventi pubblici e privati e un investimento di 150 milioni di Euro per maschere d'abbigliamento. Certo? Quindi se una volta le feste pagane venivano sostituite negli stessi giorni da feste cristiane, oggi si assiste al tentativo contrario. E abbiamo già visto. Ebbene, non resta che mettere al corrente un po' tutti i rischi di questa festa, a cominciare dai docenti e dirigenti scolastici, che hanno la grande possibilità di far capire ai loro comuni che la festa di Halloween non ha niente a che vedere con le nostre attenzioni, ma che, e qui reintervengo io prima della citazione, purtroppo continuano a sponsorizzare questa festa e ad obbligare i ragazzini a parteciparci. Allora, si assiste ad una cosa strana dalle nostre parti, no? Perché in qualche scuola che io ricordi l'anno scorso, andò a finire anche sui giornali, è proibito fare il presepe a Natale, perché io sei matto. Il presepe non si può fare, perché poi ci sono i poveri bambini musulmani che sottofai il presepe si offendono, li offendi, giusto? Ah, però Halloween, cioè io non posso fare il presepe in Italia, cioè che sono 2000 anni che è cristiana, perché si offende l'islamico e tu mi presenti una festa di importazione dagli Stati Uniti, che non ha nulla a che fare con la nostra cultura, zero, se anche uno non volesse credere a tutto quello che ho detto, e me la imponi a tutti. Perché? Allora, i genitori cosa stanno facendo? Io conosco alcuni genitori cristiani che i figli non ci rimandano a scuola, io consiglio, raccomando, penso che non ci sia, fate un bel giorno di vacanze, non serve a niente andare a scuola a fare la festa di Halloween. Nella mia parrocchia, e fatele in altre parrocchie, io consiglio di di fare, organizzate le feste in maschera, vestiti da santi, quella è la mascherata che si può e che si deve fare, non vestiti da mostri a dare gloria al demonio, ma vestiti da santi a dare gloria e a cercare di conoscere meglio questi grandi eroi della fede che ci hanno preceduto e che sono i nostri modelli e che sono i nostri veri amici e che ci aiutano a differenza, ci aiutano veramente perché pregano per noi, oltre che forse come i nostri amici. E un ultimo particolare che lo so per certo, ora, in un sacco di famiglie, siccome è Halloween, ci sono le mamme che fanno le zucche e poi le mettono sulle finestre, fuori della porta, le antenne di Jack, quindi le zucche svuotate con dentro la candela accesa, facendo una cosa molto gradita al Signore delle Tenebre in versione 2011, che non si chiama più Samain, si chiama Satana, ma è la stessa identica persona. Io so per certo, perché mi è stato riferito, che durante un esorcismo è uscito che al diavolo darebbe molto fastidio se in luogo delle lanterne con le zucche, scusate, delle lanterne dentro le zucche, fossero messe sui davanzari delle nostre finestre dei ceri benedetti da un sacerdote. Sarebbe una cosa che darebbe molto fastidio, quindi io per esempio dalle parti mie domenica prossima lo dirò e lo farò. Ho fatto comprare circa 300 ceri, la mia parrocchia è una parrocchia piccolina, in cui saranno benedetti e chiunque vorrà, potrà prenderlo, e poi alla notte del 31, mentre partecipiamo alla festa dei Santi, dalle 8 e mezza fino alle 11, brilleranno dalle finestre delle nostre case. Tra l'altro, anche questo, sono anni che ormai si fa dalle mie parti e consiglio di farlo. Terminata la festa, dalle 11 fino a verso le 4, perché l'ora clou, sapete, l'ora di Satana sono le 3 di notte, quindi è quel momento in cui si scatenano di più gli operatori della concorrenza, chiamiamoli così. Dalle 23 fino alle 4 stiamo in chiesa, pregando, recitando un po' di rosari, facendo un po' di vie crucis e facendo un po' di altre preghiere, in riparazione di tutti quanti i peccati che si fanno durante quella notte e soprattutto in riparazione, come dire, proprio per fare un'azione di contrasto con quello che gli operatori del male stanno facendo, perché nelle notte di Halloween fanno una montagna di malefici, fanno una montagna di sacrifici umani, fanno una valanga di messenere e non è possibile che i figli di Dio dormono quelli buoni e quelli meno buoni si uniscono con feste e pagliacciate alle opere degli operatori delle tenebre. Io vi lascio con queste piccole raccomandazioni, vi chiedo perdono se non sono stato in qualche istante chiaro, però questo argomento, come capite, appassiona particolarmente il mio cuore di sacerdote e quindi probabilmente mi sono lasciato trasportare un po' dall'enfasi e del voler dire tante cose a discapito della chiarezza. Mi chiedo anticipatamente perdono, l'ho fatto soltanto per amore di Dio e della Madonna, perché non c'è gioia più grande che possa avere io, faccio una confessione di poter distruggere qualcuna delle opere delle tenebre, perché questo dobbiamo farlo tutti, diventare dei nemici della nostra salvezza. Il diavolo, quando vedo un cristiano, dovrebbe mettersi paura lui, dovrebbe considerare tutti noi come suoi nemici e guastatori, che appena passiamo, non è che ci viene a tentare, scappa per la paura che gli dovremmo mettere se fossimo soltanto un po' più uomini e donne di fede e anche un po' più uomini e donne di coraggio, avendo la forza e il coraggio di alzare un pochino la voce, quando anche qualcuno storcesse un pochino la bocca, o peggio, ci prendesse per ridicoli, o ci prendesse per fuori modo oppure per matti. Poi quando ci troveremo davanti al Signore di tutti quanti i Santi, che è l'unico che conta, vedremo chi aveva ragione, se coloro che si sono opposti a queste stupide e demoniache mode, oppure coloro che sulla base del nostro pacifismo e irenismo ormai dilagante, che dobbiamo andare d'accordo con tutti e non dobbiamo contestare i bambini se non poi piangono e crescono repressi, hanno tollerato o meglio addirittura alcune volte avallato o si sono fatti complici di queste quanto meno barbare tradizioni. Do la mia benedizione a tutti, saluto lo staff della radio Buon Consiglio, vi do appuntamento credo a martedì prossimo, che è il primo di novembre, se non ci dovessimo sentire il primo di novembre perché le suore dovessero giustamente santificare e celebrare con grandissima gioia questo grandissimo giorno, ci risentiremo comunque certamente, credo, tra un paio di martedì su queste frequenze. Siano notati Gesù e Maria e a tutti Ave Maria.